Il 2023 è un grande anno per l'alopecia areata perché finalmente abbiamo anche in Italia l'approvazione della baricitinib come trattamento di scelta per l'alopecia areata completamente rimborsato dal sistema sanitario nazionale. Cosa vuol dire? L'alopecia areata la conosciamo tutti, cadono i capelli in chiazze improvvisamente, in bambini o in adulti si formano delle chiazze tonde senza capelli o a volte cadono le ciglia, le sopracciglia, i peli della barba. Nelle forme gravi tutto cade quindi si ritrova nel giro di qualche settimana completamente sprovvisti di ogni pelo e capello. Quindi l'impatto psicologico facilmente comprensibile nei bambini e negli adulti, la difficoltà enorme nei rapporti sociali e professionali e finalmente la risposta. Risposta che è stata data inizialmente dall'FDA poi dall'EMA e adesso dall'AIFA ovvero capire che accettare che l'alopecia areata è una malattia autoimmune, non è una malattia da stress e abbiamo un rimedio. Il baricitinib che è un farmaco della categoria degli inibitori delle ianoschinasi che assunto tutti i giorni per via orale alla dose di 4 mg ha dimostrato di fare ricrescere i capelli e i peli in un modo cosmeticamente accettabile, quindi rimangono pochissime aree senza capelli o il 100% dei capelli e peli ricresce nell'80% dei capelli con i risultati mantenuti a lungo termine continuando la terapia. Quindi ottimo risultato fatto da una coordinazione degli scienziati, dei pazienti e di noi dermatologi che trattiamo quotidianamente pazienti dell'alopecia areata finalmente abbiamo una risposta.